Non poteva iniziare meglio il preliminare di Europa League per la Lazio all'Olimpico contro il Rabonicchi. Dopo sei minuti sarebbe già 1-0, ma Hernanes è nettamente in fuorigioco su Assis di Mauri. Non al ventesimo, su tocco sempre di Mauri e stavolta il gol del brasiliano vale l'1-0. Poco dopo un'altra segnalazione di offside nega il 3-0 al capitano della Lazio, che però può esultare nel finale di primo tempo. La difesa macedone dorme prima su close e poi proprio su Mauri. È 2-0 al 39esimo. Nella ripresa si presenta Sissé, altro servizio di close e grandestro del francese, che esulta a modo suo. E Rabonicchi traballa parecchio e allora Sissé, su invito di Matusalem, si prende anche la gioia della doppietta personale alla prima ufficiale con la maglia della Lazio. Gioia che arriva anche per Rocchi, che festeggia il 5-0. Festeggia anche Miro Close però, con Rocchi che gli serve così il pallone del definitivo 6-0 e i primi applausi dello stadio olimpico. Grazie.